Anche a livello personale un gol è il primo ufficiale, insomma, inizi bene? Sì, no, sono contento. Poi per noi è importante fare sempre gol e stare sempre bene. Io mi auguro che, così come è iniziato, possa fare una grandissima stagione da qua, fino alla fine. Assegna anche Cassano, l'intesa cresce? Senz'altro, è un grandissimo giocatore. Su calcio di rigore il battitore sono io, però l'ho lasciato il pallone perché ho visto che doveva sbloccarsi. Perciò sono contentissimo per lui. Mi auguro che lui possa darci quello che ci è mancato la stagione scorsa. Il mister ci ha detto che era lui il rigorista. Sì, allora mi sta detto una bugia. No, comunque il rigorista siamo noi. Poi, giustamente, l'anno scorso battevo io il rigore, però niente, ma quello è un problema. Poi si capisce subito, con noi non ci sono i problemi del genere. Tu gli hai lasciato il rigore, ma lui ti ha ringraziato di cuore. No, io ho detto, guarda, ti lascio il rigore e ti aspetto verso la banderina, poi vedete cosa vuoi fare. E niente, ma battuta così, niente di che, siamo felici, siamo contenti. Sono contento che lui ha segnato una partita ufficiale, perciò abbiamo iniziato alla grande. Dobbiamo finire anche alla grande.